Buongiorno a tutti, sempre nella ditta Marazzolume di Castellammare di Stagna come ogni sabato noi proponiamo sempre la nostra offerta oggi usciremo con una super offerta sul nostro bellissimo cetio Rotornero Lucido de Mandano oggi vorrei fare un po' di telemedia la mia telemedia è composta così i primi 5 che mi chiamano i primi 5 che mi chiamano su questo bellissimo cetio da 17 e 18 pollici per Audi A3, A4, A5, A6, Q3, Q5 e tutto il resto al presso anche Audi A1 i primi 5 che mi chiamano batto, fatemi sentire scurrare il telefono a 334 25 59 D3 vi regalo la spedizione ragazzi miei i primi 5 che mi chiamano la spedizione ve la pago io da 17 ve lo spedisco in tutta Italia a 430 euro 430 euro da 18 480 euro fammi sentire il telefono squillare fanno squillare 334 25 59 D3 vai 5 5 6 6 9 9 9 10 10 10